Cristian, il Livorno crea tanto, fa sempre la partita migliore degli avversari, eppure i punti non arrivano, gli avversari sistematicamente fanno un tiro e un gol, c'è un problema per quanto riguarda le reti che il Livorno non riesce a fare? Noi produciamo tanto, poi davanti alla porta non riusciamo a buttarla dentro, questo per i ragazzi è frustrante, perché lavoriamo tanto, giochiamo bene, creiamo situazioni da gol, ma poi non riusciamo a buttarla dentro, mentre gli altri fanno mezzo tiro e ci fanno gol. E quindi probabilmente è un momento così. C'è stato un episodio in cui Livorno avrebbe comunque meritato il calcio di rigore? Non lo so, non l'ho visto nella Moviola, per cui non posso giudicare, so che i ragazzi me l'hanno detto, però non posso assolutamente dare un giudizio. Quando è inserito dentro Comi la squadra si è comunque alzata, o comunque Livorno riusciva magari a fare più cross, con lui è fedato, forse Livorno era più brioso? No, ma la squadra sta facendo bene in tutti i modi, il primo tempo abbiamo creato tre situazioni per fare gol, loro si sono schiacciati e chiaramente a quel punto lì ho messo Comi un riferimento dentro l'area e siamo andati meglio, ma anche per la stanchezza dell'avversario. C'è preoccupazione? Assolutamente, assolutamente sì, sono io il primo responsabile a essere preoccupato, ma so di avere una buona squadra e devo tenerla tranquilla. Antonini, partiamo subito dall'episodio, perché è un episodio che poteva cambiare sicuramente la partita e il fallo di mano di Popescu c'era. Non era netto di più, guardalini sinceramente non l'abbia potuto vedere, era fianco a me, il cross l'ho fatto io, la mano l'ha allargata il difensore, è nettissimo, solo lui non l'ha visto, l'ha visto tutto tranne guardalini. Al di là però del fatto che Livorno comunque mette sotto un po' tutte le avversarie, però c'è un problema, il problema di non segnare, che non è indifferente, infatti per questo motivo rimane sempre lì la squadra Maranto, non va avanti in classifica. Sì, è quel particolare che ti fa fare il salto di qualità, ti porta su come punti in campionato, però se non fai gol è da Avellino che creiamo tante palle gol, però abbiamo fatto solo un gol, qualcosa non va, dobbiamo essere più cattivi sotto porta, più cinici. Le altre squadre hanno una mezza occasione e la buttano dentro, noi no, quindi qualcosa dobbiamo rivedere. Si può dire che Livorno ha giocato meglio sul finale di gara, comunque paradossalmente ha buttato via gran parte della partita? Sinceramente credo che Livorno abbia giocato bene gran parte della partita, tranne magari i primi dieci minuti, poi per il resto abbiamo fatto una grande partita come le ultime tre, però mancano i gol, quindi mancano i punti. Entella e Entrapani, sono due avversarie, le prossime avversarie sono entrambe toste anche perché stanno giocando sempre meglio, bisogna assolutamente fare punti, ormai non ci sono alternative. Ora si stringe il cerchio, stiamo arrivando alla fine, anche se mancano 12 partite, comunque vanno affrontate come 12 finali, è inutile dirlo. Lo sappiamo, sono partite difficili, l'Entella viene da un periodo importante e sicuramente verrà Livorno per portare a casa i tre punti, ma dobbiamo essere più forti noi, cinici, cattivi e portare a casa i tre punti. Siamo in casa nostra, quindi dobbiamo far valere il fatto del campo. Federico, qual è il clima all'interno dello spogliatoio? Ovviamente siamo tutti rammaricati, però arrabbiati perché è l'ennesima partita che dominiamo, creiamo tantissime occasioni e per un tiro casuale, insomma, perché non era uno schema preparato sicuramente, c'è stato un liscio al limite dell'aria, è venuto un gol. E' normale che dentro lo spogliatoio c'è tanto rammarico e rabbia perché avevamo fatto noi la partita, c'era una squadra oggi che meritava qualcosa, eravamo noi, gli altri non hanno mai provato a giocare a calcio e si sono messi tutti dietro e basta. C'era tanta amarezza anche nelle parole del mister, che cosa vi ha detto a fine gara, è fiducioso? No, il mister è sempre fiducioso e ci dice sempre di stare a testa alta quando vede queste partite in cui diamo tutto e creiamo tanto, abbiamo preso un palo, una traversa, ci sono occasioni ed episodi che potevamo recriminare, possiamo recriminare, sono dubbi. Loro non hanno mai provato a giocare, non hanno mai creato nulla di pericoloso, però il mister ovviamente ci dice a tutti di non mollare e noi non molleremo fino alla fine. C'è tanta sfortuna, episodi assolutamente contestabili come il fallo di mano di Popescu, però c'è anche un Livorno che sottoporta, fa veramente fatica. Sì, sicuramente facciamo un po' fatica in queste ultime partite, speriamo di rientro di Daniele vantaggiato, che nelle ultime partite ci serve molto perché lui è il bomber della squadra, facciamo fatica però creiamo lo stesso tanto, ci manca proprio la rabbia finale, la cattiveria giusta per riuscire a fare gol, sono convinto che però la troveremo e i nostri attaccanti si sbloccheranno. Anche perché ci sono avversarie toste, a partire proprio da Lentella che sta facendo molto bene. Sì, Lentella sta facendo molto bene, è fuori da tanto da questa zona di bassa classifica, però giochiamo in casa e in casa noi dobbiamo dare tutto alla prossima partita perché bisogna assolutamente vincere. Proprio per questo ti senti di dire qualcosa ai tifosi del Livorno? Io chiedo ai tifosi del Livorno di aiutarci queste ultime partite perché sono tutte finali e sono convinto che tutti insieme daremo un calcio a questa sfortuna perché c'è solo sfortuna adesso, stiamo giocando bene, stiamo dando tutto e non possiamo ricominare nulla a noi stessi. Luca, intanto la sensazione di giocare contro il Livorno, l'emozione penso che per te ci sia stata. Sicuramente quattro anni e mezzo non si dimenticano, quindi c'è sempre emozione come c'è stata l'andata a Livorno, oggi ancora c'è stata, però quando poi è cominciata la partita è normale che ognuno pensi alla sua squadra e oggi pensiamo per in Modena, quindi sono contento per il risultato. Che Livorno hai trovato? Un bel Livorno, secondo me hanno fatto una buona partita, oggi i punti valevano doppio, quindi diciamo che dopo che siamo andati in vantaggio abbiamo cercato di difenderci, però ho visto un buon Livorno, comunque ha trovato di fronte un Modena guerrito, quindi siamo contenti per la vittoria. Entrambi lottati per la salvezza, secondo te, ti chiedo anche Dex, il Livorno ce la farà salvarsi? Io glielo auguro, è naturale, perché comunque ho amici ancora che giocano lì, quindi è naturale che voglio che facciano il meglio possibile. Oggi era uno scontro diretto e siamo riusciti a vincerlo noi, però gli auguro di fare bene comunque. Quindi Dex, insomma, il Modena e il Livorno speri che si salvano? Un po' un tifoso sei rimasto? Ma sicuramente, spero che si salvi il Modena, ma sicuramente spero che si salvi anche il Livorno. Mister, possiamo dire che era un'autentica sfida a salvezza, alla fine il Modena che l'ha spuntata, quanto sono importanti questi tre punti? Sono veramente importanti, perché era uno scontro diretto, perché gli altri sotto avevano vinto, quindi era complicato. E per noi è una partita in casa che dovevamo sfruttare al massimo. Che Livorno ha trovato? È un Livorno che ha creato tanto. Un Livorno che sicuramente in fase di Palleggio ci ha messo in difficoltà, ma è chiaro, Chiaramente non possiamo dimenticare che questo Livorno è stato costruito sicuramente non per lottare per le tratto cedere. Un Livorno costruito come per raggiungere magari i play-off. Quindi si sta ritrovando una situazione al quale noi dall'inizio della stagione che stiamo lottando in questa situazione, quindi probabilmente siamo sentiti un po' al nostro agio in questo senso. Allo stesso tempo era la terza partita in otto giorni con due trasferte complicatissime. E quindi non era facile. Noi da tempo che stiamo spendendo un sacco di energie nervose nella situazione complicata di classifica, adesso siamo riusciti a fare la terza vittoria in quattro partite e questo ci fa respirare. Che idea si è fatto di questo campionato di Serie B e dove vede il Modena, sì ma anche il Livorno? È un campionato complicatissimo che non puoi mollare perché le sorprese sono dietro l'angolo. Deve giocare ogni singola partita in episodi. Non siamo stati bravi a concretizzarlo. Loro hanno avuto una chiara occasione da 20-25 metri quando ha calciato come ha toccato bene e poi un cross sbagliato che ha preso la traversa. Poi ci sono stati sì in fase palleggio ma non avevamo corso pericoli veri e propri. Non hanno avuto grosse occasioni. Sì, sicuramente palle dentro l'area. Siamo stati bravi a marcarli bene e a non concedere poco. La salvezza adesso passa dagli scontri diretti? La salvezza passa sabato dopo sabato. Adesso a noi passa da Spezia a provare a affrontare una squadra complicatissima. In questo momento è quella che ha fatto più punti nel giro del ritorno. Quindi in ottima salute e quindi dobbiamo stare molto attenti.